I love him, I love him, I love him, and where he goes, I follow him, I follow him, I follow him. Awey, fratelli! Fratelli! Eh, fratelli! Fratelli! Forza, fratelli! Allora, proprio oggi mi sono messo sulle carte... Odino! Che succede? Ehi, che ti sia a fare la? Vivi qua, no? Che spiego il patatù! Si chiama... Da oggi parte una promozione sociale. Aspetta, aspetta! Non ho capito, che è successo? Allora, io mi sto occupando del sociale? Me? Quindi, da oggi parte una promozione. Promozione, vai! Mi occupo di questo. Allora, voglio che spargete la voce perché tutti dovete contribuire. Me? Va bene, da oggi raccoglieremo dei fondi da donare alle prostitute, ok? Sì! Allora... Don Dino, ti piace? Don Dino, io preferisco contribuire, diciamo, singolarmente, dando a loro qualcosa ogni sera. Don Dino, io faccio la stessa cosa, purtroppo. Don Dino, pure io faccio la stessa, ogni 20 euro. E adesso... Ma è più importante, stasera? Ma è più importante... Ma si sta bene, dai... Eci sei... Cioè, perché questa raccoglie miunga la sua... Ogni sera fai una a della tua benzina. Grazie a tutti.